Siamo nelle campagne a distribuire dispositivi di protezione contro il sole e alfabetizzare i lavoratori, i braccianti rispetto alle condizioni di lavoro, ascoltando anche le ragioni dei contadini, dei agricoltori che a loro volta esprimono bisogni, esprimono problematiche. Per questo motivo rimaniamo convinti che la filiera agroalimentare ha bisogno di una riforma radicale introducendo la patente del cibo, stabilendo il giusto prezzo e garantendo un prodotto eticamente sano ai cittadini per la dignità del lavoro ma per la dignità dell'intera filiera agricola.